Oggi all'ordine del giorno del Consiglio Comunale stiamo discutendo l'argomento quale futuro per la Biblioteca della Sapienza. Molti sono gli interventi di tutte le forze politiche. Io mi sento di rivendicare come Presidente della Terza Commissione Cultura un valido percorso istituzionale svolto in quanto abbiamo ospitato il 22 gennaio l'Università di Pisa che ci ha illustrato in anteprima i risultati dello studio tecnico della perizia sul Palazzo della Sapienza che ha uno studio congiunto Ateneo-Pisano-Mibact che è il Ministero per i beni e le attività culturali e turistiche. Lo studio tecnico ha evidenziato e ha confermato tutte le preoccupazioni che erano chiaramente legate alla chiusura del palazzo in quanto sono state evidenziate forte criticità strutturali e hanno diciamo in più tra l'altro elencato una serie di azioni da intraprendere perché poi appunto il palazzo possa essere riaperto al pubblico. A proposito di questo molto brevemente servirà un alleggerimento del carico dei volumi e dei periodici presenti nella biblioteca che come sappiamo saranno poi spostati al San Matteo che diventerà una seconda sede della biblioteca universitaria, modello Cambridge, una vera e propria emeroteca che ospiterà appunto i periodici dell'Università per cui appunto avremo due sedi distinte della biblioteca universitaria.